Giovani, futuro, net, una sfida possibile. È stato il titolo del convegno in programma il 29 settembre alla Mole Van Vitelliana di Ancona. Al centro dei lavori del convegno ovviamente i giovani legati alle sfide del passato, del presente e soprattutto del futuro che li legano con i fondi europei. La giornata si è svolta in modo parallelo e poi congiunto con workshop insieme a delegazioni di studenti delle scuole marchigiane e un convegno tra i rappresentanti delle istituzioni, formatori, docenti ed esperti. Mauro Terzoni, dirigente del Dipartimento Istruzione, Lavoro, Politiche e Sociali della Regione Marche. L'attenzione dell'amministrazione verso questo tema è testimoniato anche dall'evento di oggi perché poi è l'evento di apertura, se vogliamo, del nuovo ciclo di programmazione del Fondo Sociale Europeo e quindi proprio dedicato ai NIT, alle loro problematiche, servirà anche l'incontro di oggi, il convegno di oggi per acquisire anche delle utili informazioni per migliorare i progetti che stiamo mettendo in cantiere. Quindi noi vogliamo sviluppare interventi quali la creazione di impresa, gli interventi a partire dalla scuola, gli interventi di innovazione didattica. La formazione professionale è un tema importante. Massimo Rocchi, dirigente della formazione professionale della Regione Marche. Qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere con questi incontri, con questi seminari, e con tutta l'attività formativa collegata al lavoro e ai nuovi mestieri. Cercare di andare a ridurre il mismatching che vi è oggi tra le competenze richieste dalle imprese e dal tessuto produttivo locale della Regione Marche e i nostri giovani, le competenze e le future professionalità che vengono richieste dalle imprese. Dobbiamo fare in modo che tra le competenze delle imprese e le capacità e le abilità che i giovani stanno acquisendo, vi è una coincidenza, una unione che possa portare a uno sviluppo del tessuto produttivo della Regione Marche. Giuseppe Lavenia, psicologo. Io mi occupo da sempre con l'associazione che presiedo di dipendenze tecnologiche, isolamento sociale volontario. Sarebbe la sindrome degli Ikikomori, i ragazzi che si chiudono nella stanza. E i NIT con gli Ikikomori, ahimè, vanno a braccetto perché molto spesso i ragazzi trovano la soluzione alle loro problematiche rimanendo chiusi nella loro stanza davanti a un PC e abbandonano un po' tutto. Quindi il contributo che cerchiamo di portare sempre con l'associazione è quello di rimettere al centro la salute mentale dei ragazzi, che in questo momento sono in profonda difficoltà. consideri che il 50% dei ragazzi non riesce più a immaginare un futuro e oltre il 70% dei ragazzi, lo dicono tutte le ricerche che abbiamo condotto, non riescono a immaginare il futuro senza ansia. E quindi su questo noi dobbiamo assolutamente intervenire ed è quello che stiamo facendo anche con questo evento. Giovanni Pozzari, dirigente istruzione, innovazione sociale e sport per la Regione Marche. Innanzitutto bisogna capire benissimo questo fenomeno dei NET. Il problema è che questi ragazzi probabilmente non hanno delle occasioni da potersi sfruttare, non hanno la consapevolezza di se stessi di cosa possono riuscire a realizzare. Ma questa è una connotazione negativa che viene data al fenomeno. A noi piace vedere invece una proposta di tipo positivo, dare un'occasione, dare la possibilità di fare un'attivazione a questi ragazzi e proporre loro dei modi. Noi stiamo già sperimentando in Regione delle modalità con le politiche giovanili un pochino innovative delle metodologie nuove, ad esempio delle black box, delle escape room, delle web radio, proprio per attivare delle competenze trasversali e delle life skill che non sono propriamente quelle didattiche, curricolari della scuola. E quindi un qualcosa di ulteriore, di laterale a quello che andiamo a fare. Andrea Pellei, Autorità di Gestione dei Fondi Europei per la Regione Marche. Il programma attuale, che si abbia a conclusione, diciamo tutte le spese devono essere sostenute entro fine 2023, diciamo che c'aveva una dotazione di 280 milioni di euro, non c'era una riserva specifica per i giovani, le misure erano per tutti con alcune priorità per i giovani. Nella nuova programmazione, che ha una dotazione complessiva di 296 milioni di euro invece, c'è una riserva specifica, perché la Commissione Europea ha richiesto proprio che ci sia una dotazione specifica mirata per i giovani. In questo caso, nel caso del POR FSE delle Marche, ci saranno 44 milioni di euro per iniziative a favore dei giovani che spaziano dal supporto al servizio civile, dal supporto all'istruzione e formazione professionale, diciamo l'organizzazione dei corsi degli ITS, quindi degli istituti tecnici superiori, e molti interventi anche sulle borse lavoro e sui dottorati di ricerca. All'interno delle sessioni anche la parola ai protagonisti, cioè le testimonianze di beneficiari di interventi realizzati con il Fondo Sociale Europeo e ovviamente i ragazzi che hanno partecipato a dei workshop per poi seguire all'auditorium della Mole la fine del convegno. Grazie.